Ciao a tutti ragazzi, io sono SuperSkate e questo è il mio nuovo canale Allora, su questo canale se riuscirò a fare i giochi, non lo so perché ci ho provato una volta, però ci sono riuscito Vabbè, provato Allora, su questo canale farò vedere diverse cose Giochi, ma non solo giochi, ma anche farò, come dire Scusate, è che... come dire, sono un po' emozionato perché questo è il mio nuovo canale Allora Ehm... niente, il video durerà solo un minutino e basta, niente di che Allora, questo è tutto ragazzi e ci vediamo nel prossimo video, bella raga